Signor Questore, un calendario in bianco e nero, quello del 2017 per la Polizia? Sì, un calendario del 2017 in bianco e nero, un calendario fatto in collaborazione con l'Unicef, l'intero incasso sarà devoluto all'Unicef Italia ed è un calendario importante perché racconta i vari processi di integrazione e l'aiuto che l'Unicef insieme alla Polizia di Stato vuole dare ai paesi che hanno più bisogno, mi riferisco per quest'anno al Libano, ma negli anni passati noi lo abbiamo fatto anche per quanto riguarda il Sudan, il Gambia. Abbiamo raccolto dal 2001 fino ad adesso qualcosa come 2 milioni di euro che abbiamo destinato per i cittadini dei paesi meno fortunati dei nostri. Quest'anno è per il Libano, per i giovani del Libano, per i giovani palestinesi, per tutti coloro i quali stanno vivendo un'esperienza drammatica come i giovani siriani, quindi ci rivolgiamo a tutti i cittadini di Piacenza, a coloro i quali vogliono comprare questo calendario, basta fare un versamento all'Unicef Italia, il calendario costa 8 euro, quello grande, mentre quello da Davolo costa 6 euro e il versamento verrà fatto all'Unicef. Chi poi ha effettuato il versamento si potrà presentare in quest'ora all'ufficio delle azioni con il pubblico e ricevere copia del calendario dalla seconda metà del mese di dicembre. Piacenza è una città molto solidale, molto vicina a chi soffre e sono convinto che questa città come sempre per il passato e anche quest'anno saprà accogliere questa inizia della Polizia di Stato nel migliore dei modi. Grazie a tutti.